Oggi vogliamo parlarvi di una serie tv prodotta da Netflix e rilasciata lo scorso gennaio dal titolo L'Impero Ottomano. Il titolo della serie tv può trarre in inganno perché in realtà non si parla dei numerosi eventi storici che hanno caratterizzato la storia dell'Impero Ottomano, quanto piuttosto di un singolo evento che ha avuto una valenza storica fondamentale per le sorti dell'Impero. Mi riferisco alla conquista ottomana della città di Costantinopoli avvenuta il 29 maggio 1453. La serie tv si compone di sei episodi di una singola stagione e alterna momenti di recitazione durante i quali vengono rappresentati i momenti chiave dell'assedio della città a momenti più divulgativi durante i quali intervengono numerosi professori universitari e storici dell'Impero Ottomano per offrire una visione più approfondita e soprattutto raccontare numerosi aneddoti per lo più sconosciuti inerenti all'assedio della città. La serie tv riesce nel suo intento di mantenere incollati allo schermo gli spettatori e dunque attraverso una narrazione incalzante e molto dinamica riesce nell'intento di attrarre l'attenzione nonostante vengano narrati eventi dei quali si sa già all'esito. La città verrà infatti conquistata il 29 maggio dopo circa un mese di assedio da parte delle truppe del sultano ottomano Mehmet II. La serie si concentra quindi prevalentemente sull'assedio della città di Costantinopoli ma riesce nel suo intento di dipingere il contesto storico in cui è emerso il sultano ottomano Mehmet II, noto ai molti come Fetì, il conquistatore della città di Costantinopoli. L'evento storico raccontato nella serie tv ha avuto un'eco fortissima in tutta Europa in quanto ha segnato la fine di un impero, l'impero bizantino, ormai in decadenza e soprattutto l'emersione e l'ascesa di un nuovo impero, l'impero ottomano.